45.000 copie distribuite in tutto il centro Abruzzo nel giro di tre anni e 18.000 accessi su sito internet a un anno e mezzo dal lancio. Sono i numeri dell'associazione Vale Pelini in Tasca che scalda i motori per la stagione estiva, chiamando a raccolta tutte le associazioni del territorio per segnalare gli eventi che animeranno l'estate del centro Abruzzo. Da ormai tre anni l'associazione raccoglie le manifestazioni di tutto il centro Abruzzo e li promuove attraverso la pubblicazione di una guida cartacea e l'inserimento su sito www.valepelini in tasca.it. Di recente è stato raggiunto anche un accordo con l'UMPLI l'Aquila, Unione Proloco della provincia dell'Aquila, per sponsorizzare più possibile gli eventi e le tradizioni del territorio. Continueremo con il nostro lavoro, invitiamo comuni, proloco e associazioni a segnalare entro il giorno 31 maggio tutti gli eventi che ricadono nel proprio territorio e che sono compresi nel periodo giugno-settembre per essere inseriti sul nostro sito e sulla guida da stampare e distribuire in 15.000 copie durante le estate, fa sapere la presidente di Valle Pelini in tasca, Carla Di Benedetto. Gli eventi possono essere inviati all'indirizzo info-vallepelini in tasca.it oppure a www.vallepelini in tasca.it.